Oggi parliamo di un soggetto molto importante per le aziende, il budget economico previsionale. Il budget economico previsionale è quello strumento che serve per tenere sotto controllo quella che è la strategia aziendale durante l'anno. Quindi gli obiettivi definiti all'inizio dell'anno devono essere mantenuti per tutto l'anno e soprattutto serve per individuare quei momenti di crisi che potrebbero andare a mettere l'azienda in difficoltà. Però uno dei problemi maggiori delle aziende è quello di trovare il tempo e soprattutto la modalità migliore di creare questo budget previsionale. Spesso la raccolta dei dati è il momento più complicato perché si parte dal mettere insieme quello che è il conto economico, però definire sia a livello amministrativo sia poi a livello strategico quelli che devono essere i numeri da inserire nel budget creano pochi problemi. Per cui molte aziende tendono a non realizzare, a non fare il budget o a non aggiornarlo continuativamente. Quello di cui parliamo oggi è una tecnica per realizzare velocemente un budget previsionale. Uno degli aspetti che abbiamo osservato nell'analisi annuale delle aziende, quindi dei vari periodi delle aziende, le varie annualità delle aziende, è il fatto che l'incidenza dei costi sui ricavi rimane sostanzialmente invariata qualora non ci siano dei progetti particolari o delle situazioni contingenti del mercato che vanno a cambiare drasticamente la situazione. Quindi una delle metodologie che applichiamo alla consulenza strategica delle aziende è quello di andare a calcolare quanto incidono percentualmente i costi sul totale dei ricavi sia annuali che mensili e determinare una tabella che vada ad indicare e a creare in maniera veloce quella che è una proiezione iniziale del conto economico all'interno dell'anno. Quindi prendiamo i costi, prendiamo i ricavi, creiamo per ogni singolo costo la voce di incidenza percentuale sul ricavo e realizziamo una semplice tabella di Excel. All'inizio di ogni anno cosa faremo? Andremo ad indicare semplicemente quello che è il totale dei ricavi attesi e il nostro software di Excel, il nostro foglio di Excel, non farà altro che proiettare sia a livello annuale che a livello mensile quello che è l'andamento dei costi. Poi come team organizzativo e strategico dell'azienda sistemeremo i valori più nel dettaglio e andremo a creare così il nostro budget che, confrontato mensilmente con i conti economici derivati dalla contabilità e dall'amministrazione, ci darà in tempo reale l'andamento dell'azienda e ci permetterà di andare a sistemare tutte quelle che sono gli scostamenti che potrebbero generare problemi. Se avete bisogno di gestire questo file potete entrare in contatto con le murate. Vi seguiremo in tutto questo processo e renderemo l'idea di budget economico facile ed immediata. Grazie